Aziende agricole ed energie rinnovabili, agriturismo e fattorie didattiche, ma anche come utilizzare i prossimi fondi PAC disponibili per il settore agricolo. Sono queste le indicazioni fornite alle centinaia di persone che hanno affollato nelle fine settimana lo stand informativo della Rete Rurale Nazionale allestito in Piazza Unità d'Italia a Palermo. Avvicinare i cittadini alle tante possibilità offerte all'agricoltura è lo scopo del progetto di comunicazione e la campagna Un Luogo in Comune, messo a punto dall'ISMEA, Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare. Così, mentre gli animatori hanno intrattenuto i bambini facendo scoprire loro i segreti della campagna, gli adulti sono state date tutte quelle informazioni riguardanti le opportunità per le aziende agricole, ma anche i benefici per i cittadini delle politiche di sviluppo rurale. Per i giovani invece imparare sempre divertendosi con selfie e quiz, a sfondo sempre l'agricolo su tematiche agricole, da che cosa sono le DOP, cosa si può definire fino a che età un imprenditore agricolo è considerato giovane e il fotobus diventando quindi protagonisti loro stessi della campagna e dando poi le informazioni a loro e anche alle fasce di età più adulte su quelle che sono veramente le opportunità in termini occupazionali e di innovazione che lo sviluppo rurale può offrire. Il ruolo dell'agricoltura è anche visto in un'ottica di benefici che porta al cittadino ed è per questo che è stata ideata e pianificata questa campagna che coinvolgerà 10 piazze nei principali comuni di tutta Italia.